In realtà noi non abbiamo mai avuto paura di calare nessuna competizione, noi siamo sempre stati convinti, io l'ho detto anche in trasmissione da voi, tante volte che noi rispondiamo alle tante critiche sempre con i fatti e i fatti alla lunga danno sempre ragione. Dicevo che la Lega si basava fondamentalmente sulle parole e noi stavamo portando a casa i risultati, qualche mese di tempo e adesso si stanno concretizzando. I siciliani ci stanno dando ancora ragione e sono convinto che saranno tanti in tutta la nazione a scommettere ancora sui fatti del Movimento 5 Stelle. Oggi sono molto contento perché i due sindaci eletti con condizioni molto diversi cambiano la storia di due città importanti, Caltanissetta e Castelvedrano.